Una festa del lavoro in Sordina, cittadini che raccolgono l'invito a vaccinarsi. Così diversamente dagli altri anni si è celebrata oggi la festa del primo maggio dedicata ai lavoratori. Una festa che assume connotazioni particolari. Benvenga in questa giornata l'iniziativa del vaccino dei per accelerare l'immunizzazione, ma se si programmano delle date occorre potenziare anche una serie di servizi. Certe iniziative vanno calibrate. Così ai nostri microfoni l'avvocato Michele Sarno. Non è pensabile tenere per ore in attesa tante persone e in assenza anche di bagni pubblici. Non è una critica ma l'occasione per valutare la necessità di migliorare un servizio, quella fatta dall'avvocato salernitano, candidato sindaco alla città di Salerno, che stamani ha raccolto alcune critiche da persone che hanno dovuto attendere fino anche quattro ore. Una festa del lavoro che sia veramente una festa per i lavoratori, quindi non una festa dal lavoro, perché mai come in questo momento c'è bisogno di aperture e di consentire alle persone di poter lavorare e di rimettere in moto tutto un percorso produttivo. Per quanto riguarda i vaccini benvengano le possibilità di creare le condizioni per una grande vaccinazione, però come al solito manca una progettazione. Manca una progettazione e manca la capacità di cogliere il dato e di sollevare il cittadino a una serie di bisogni. Cioè quale bisogno? Non possiamo tenere le persone assiepiate per ore e ore e ore ad attendere laddove non abbiamo una strutturazione adeguata di risposta al problema. Cioè c'è bisogno di più utenza, c'è bisogno di più persone che si dedichino all'utenza. C'è bisogno di comprendere per esempio che ci sono persone anziane che non possono stare in piedi per tante ore. C'è bisogno di strutturarci attraverso la previsione di un bagno chimico per consentire alle persone mentre sono in attesa per qualche ora di poter anche attendere a delle necessità fisiologiche. Siamo purtroppo alle solite. Cioè si cercano di adottare dei provvedimenti e non si vanno a calibrare questi provvedimenti rispetto a quelle che sono le reali esigenze dei cittadini. Vogliamo evitare gli assembramenti e puntualmente. Ogni volta che ci sono le vaccinazioni, avete voi mandato giornalisti le immagini, c'è sempre un assembramento. È la dimostrazione di un paese che è in corto circuito rispetto alla capacità di amministrare. E purtroppo noi focalizziamo la nostra attenzione sulla nostra comunità e rispetto a questo non possiamo che censurare certi comportamenti. E non è critica strumentale. È semplicemente la fotografia di quello che vediamo ogni giorno. Serve una maggiore organizzazione. Le persone devono vaccinarsi e questo è fuori dubbio. Ma frattanto il tessuto economico soffre. Sono diverse le segnalazioni che arrivano soprattutto dai ristoratori, dai bar, che ancora una volta in questa giornata del primo maggio fanno i conti con la pandemia. Sì, ma siamo alle solite. Non c'è un progetto. Non c'è la capacità di avere una visione. Cioè questa malattia non è una malattia che è arrivata l'altro ieri. È una malattia che ci accompagna da più di un anno. Siamo quasi a un anno e mezzo. E se dopo un anno e mezzo ancora brancoliamo nel buio, stiamo dando la effettiva rappresentazione di una classe dirigente inadeguata, incapace, il problema del vaccino. Ma scusatemi, ci si poteva sedere con le aziende sanitarie locali, ci si poteva sedere con i medici che sono in prima linea, ci si poteva sedere con persone competenti per cercare di mallevare quello che è il bisogno e la difficoltà dei cittadini. O questo povero cittadino deve essere sempre proiettato in una realtà caotica, che non soddisfa le sue esigenze. E per i ristoratori commerciali, ma lo stiamo dicendo da mesi, ma ci siamo resi conto che questa è una categoria che realmente soffre. Vogliamo smetterla con lo spot elettorale, vogliamo iniziare a sposare la cultura della prevenzione, vogliamo mettendo in sicurezza il Paese assicurare a queste persone la possibilità di essere operativi.